Grazie per la linea dallo studio centrale di Rete8, allenamento mattutino per il Pescara, la situazione squadra in pratica è molto simile a quella di ieri perché c'è Campagnaro che continua a lavorare in maniera differenziata e poi ci sono alcuni giocatori in terapia come Del Sole, Gravion, Monachello e Canutè. Domani altra seduta sempre mattutina presso il training center di Città Sant'Angelo per avvicinarsi alla partita molto importante in programma lunedì prossimo alle 21 a Carpi, sarà una trasferta delicata perché il Carpi è ultimo in classifica insieme al Pado e dunque per la formazione emiliana è un po' l'ultima spiaggia per quel che riguarda le possibilità di salvezza. Dall'altra parte però c'è il Pescara che è a caccia di punti playoff, di questo ma anche di altro ne abbiamo parlato con il centrocampista biancazzurro Ledian Memushai, abbiamo registrato l'intervista che vi proponiamo. Ledian siete nei playoff, volete questi playoff, ultimamente però avete rallentato, ci sono anche gli avversari ovviamente. Sì, ultimamente non siamo andati benissimo però c'è da dar merito anche agli avversari, sicuramente vogliamo arrivare ai playoff nelle migliori condizioni sia a livello di classifica che a livello fisico. Hai fatto un gran gol, insomma è un momento dal punto di vista personale buono per te? Sì, sto meglio però non guardo i gol, mi interessava più vincere la partita perché domenica, anzi venerdì se avessimo vinto era un grande passo verso i playoff. Adesso c'è questa trasferta di Carpil lunedì di Pasqua, per te sarà un derby particolare perché riabbraccerai tuo fratello? Sì, lunedì di Pasquetta, no a parte quello sono molto legato alla società e ai tifosi, alla città di Carpi perché sono stato due anni lì e sono stato benissimo. Ecco però adesso in campo si è avversari? Quello sì, come sempre, insomma mi dispiace per il loro momento che stanno attraversando però io voglio andare lì, vorrei vincere se è possibile. Hai detto un momento delicato per il Carpi ma anche il Pescara naturalmente vuole far punti, per loro è la gara della vita perché altrimenti sarebbero quasi condannati alla retrocessione, comunque ai playoff per voi? Anche per noi è una gara della vita perché se riuscissimo a vincere a Carpi sarebbe veramente quasi, non dico matematico però sarebbe un gran passo verso i playoff. Quindi sappiamo che ci aspetta una partita difficile perché forse per loro è l'ultima spiaggia però anche per noi, quindi dobbiamo entrare in campo e cercare di portare a casa la vittoria. All'andata avete vinto 2-0, che impressione ti fece quel Carpi e adesso Carpi che è in difficoltà? All'andata contro di noi penso sia stato il solito Carpi, squadra tosta, determinante e quindi sappiamo cosa ci aspetta la ora, secondo me è diverso perché loro hanno un'altra posizione in classifica quindi dovranno anche loro cercare di vincere, quindi sappiamo che partita ci aspetta. L'ultima si lega alla prima domanda che ti ho fatto, avete stilato una tabella playoff, quanti punti mancano al Pescara? Ma non abbiamo stilato niente, sappiamo che dobbiamo vincere la prossima e poi dopo i conti si faranno alla fine perché non è tanto arrivare ai playoff ma anche come arrivare. Allora avete sentito lei da nome Musciai, a questo punto da parte mia e da parte del tecnico Alberto Capo è davvero tutto, vi ricordo soltanto che per la partita di Carpi il Pescara non potrà contare sugli squalificati Bruno e Scognamiglio.